...che colpisce la testa, nessun danno. Ma cosa fanno questi ragazzi divisi in piccoli gruppi chiamate squadriglie? Giocano a un gioco avventuroso, in cui insieme imparano ad affrontare difficoltà e a superarle, insieme imparano che attraverso il gruppo si possono raggiungere obiettivi che non si possono raggiungere da soli, e anche che conoscere la natura e imparare a cavarsela è un qualche cosa di divertente, appassionante, poetico e che comunque poi arricchisce la tua intelligenza. L'accuratezza con cui è stato costruito questo campo negli anni 50 ci fa capire quanta strada aveva percorso l'avventura cominciata a Maifking. Quelle che vedete sono le prime immagini in movimento mai girata di Baden Powell. È il 1911, ha abbandonato l'esercito inglese da appena un anno e si è gettato con passione ed impegno nella costruzione di un'associazione scout inglese. Qui vediamo anche delle ragazze scout che inaspettatamente avevano sfilato sotto i suoi occhi già nel 1909. C'è un po' di stupore e irrisione nei ragazzi che assistono al saggio di prudezza scout. È interessante notare che alla fine della prova di pronto soccorso tutto viene raccolto. Il ragazzo che chiude la fila non lascia nulla sul terreno perché i posti vanno sempre lasciati come si sono trovati. Ma l'intuizione educativa di B.P. per sua stessa natura varca quasi subito i confini britannici diffondendosi in Europa. Nel 1910 arriva il momento dell'Italia. La famiglia patriarcale è ancora un modello forte ma insieme ai primi trame elettrici era nato il metodo Montessori nel 1907, lo stesso di Brown Sea. Questi ragazzi vestiti alla marinara come accoglieranno lo scoutismo. La novità arriva dalla Gran Bretagna grazie ad alcune persone in qualche caso le stesse che hanno importato il football. Sir Francis Bain è un gentiluomo inglese innamorato della Toscana. Insieme a lui c'è il maestro Remo Molinari. Queste foto storiche documentano la prima esperienza italiana ai bagni di Lucca seguita da quella di Carlo Colombo a Roma che fonda il CNJ, Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani. Altri esperimenti avvengono a Genova con i gruppi giovanili chiamati Gioiose di Mario Mazza, Napoli e in altre città. Questo è il calco in gesso originale del magnifico giglio scolpito sull'arco della Cappella dei Lanaioli nella chiesa di Sant'Agostino a Genova da allora e per sempre simbolo dello scoutismo italiano. Ma qual è la data ufficiale di nascita del movimento in Italia? Direi che uno scout sia tale quando ha pronunciato la promessa scout e quindi direi che la data è quella delle prime promesse di questo reparto scout guidato dal Vein e dal maestro Molinari a Bagni di Lucca quindi siamo nel giugno del 1910. Si promette solennemente fedeltà alla legge scout dieci regole per uno stile di vita ispirato alla lealtà, sobrietà, ottimismo, fratellanza con il prossimo e rispetto della natura. La promessa è un rito di passaggio. Cosa prometti? Prometto che l'aiuto all'esempio di Gesù di fare del mio meglio nell'aiutare gli altri nell'osservare la legge del cerchio. La promessa l'ho fatta in Val Codera nel 1941 in un campo estimo. In una casa con un grande prato così io mi ero messa da una parte con la mia caposquadriglia. Quel giorno una cosa faceva molto freddo, seconda cosa si doveva stare digiuni dalla mezzanotte. Il giorno della promessa sì, mi ricordo, è stata un'intensa emozione, balbuziavo. Una grande emozione e un grande orgoglio di qualche cosa che mi ero conquistato. Mi ricordo l'anno, 1970, aprile. Il 23 settembre del 1945 nel parco di Monza dove era rincorso un campo. E quello è un ricordo che non si cancella. Perché è una cosa talmente nuova, talmente unica. La promessa scout era meravigliosa. È un monumento da fare a Padre Power. All'inizio, nel nostro paese, il metodo di BP viene accolto con qualche sospetto. La prima accusa che deve fronteggiare è quella di un eccessivo militarismo. Però Beren Powell corresse subito questa sua prima impostazione appena lo scotismo si diffuse nel mondo. In Italia si rimase a lungo in questa visione un po' militaristica dello scotismo. Per altro verso, soprattutto negli ambienti cattolici tradizionali, allo scotismo si rivolse l'accusa di equidistanza tra le varie religioni, che era un po' poi la politica religiosa dello scotismo in Inghilterra. Ma sulle giovani generazioni italiane, come in tutto il mondo, si scatena una bufera di morte e distruzione. La prima guerra mondiale. Proprio all'inizio del conflitto, il vecchio Papa Pio X, che vediamo in questi rari fotogrammi, è morto. Non si era mai pronunciato sullo scotismo. Diventa Papa il cardinale Giacomo della Chiesa, con il nome di Benedetto XV, e impone subito uno stile nuovo. Eccolo nei giardini vaticani. Benedetto non è pregiudizialmente contrario agli scout. Il dibattito sul metodo di BP rimane dunque aperto a possibili sviluppi in ambito cattolico. Le cose procedono velocemente. Nel 1916, falliti i negoziati con i laici del Corpo Nazionale Giovani Esploratori, viene fondata l'ASCI, associazione scout cattolici italiani. Primo commissario centrale, cioè presidente, è Mario Gabrielli Conte di Carpegna, un aristocratico che si era impegnato in associazioni sportive cattoliche. Paolino Quattrocchi corre ad iscriversi, ma dovrà aspettare ancora un anno. Nel 17, 1917, cioè un anno dopo che lo scuotismo, specialmente italiano, si apre. Nel 16 ero ancora troppo giovane, sono nato nel 9 e dovete aspettare di avere l'età idonea per essere messo ai rupetti. Nel Roma V, il numero di dice che erano agli inizi del scuotismo. Mario Di Carpegna tradurrà Scouting for Boys soltanto nel 20, con il titolo Giovani Esploratori. Ma i ragazzi sono spinti dall'entusiasmo. Una gioia e una vitalità che durante le marce lungo i sentieri, gli fa inventare una canzone che è un vero programma di vita e di future avventure. Se vi lasciamo mamme e non tremate, abbiamo promesso di doverci vita. Del freddo siamo i sforzi dell'estate, sui campi aperti, in parallelo la vita. Questa è una delle prime canzoni scout che impariamo e che cantiamo per l'estate di Roma. Ecco un documento eccezionale, alcune fra le prime immagini filmate della città di Siena. Possiamo ammirare i volti, nitidissimi dopo il restauro, delle italiane e degli italiani nel 1920. Si sta svolgendo la celebrazione del Corpus Domini. Più avanti appare un sacerdote, è padre Nazareno Orlandi. Ed ecco che arriva uno scout. Questi sono i primi fotogrammi esistenti degli scout italiani, ritrovati casualmente sulla bancarella di un rigattiere. La prova ginnica, dimostrazione del secondo punto del metodo di BP, salute e forza fisica, è gravida di sviluppi futuri. Da parte mia c'è un connubio proprio tra sport e scoutismo, perché uno dei principi di BP è la salute e forza fisica. Meglio di così, nel senso che io pratico uno sport, poi cerco anche nel mio piccolo di dare un'esperienza ai ragazzi, nel senso che di adottare come stile di vita una vita sana. Carmela Chiacchio è diventata campionessa italiana di boxe Fesipaglia nel...